Buongiorno ragazzi, questo è un video qualitativo, grafico, ma molto interessante. E ovviamente vi faccio vedere ciò che succede se in presenza di una gabbia di Faraday, quindi di un conduttore cavo, cosa succede principalmente in due casi, cioè nel primo caso abbiamo una carica all'interno, è una cosa che abbiamo già visto nel video precedente, ma adesso facciamo un'analisi qualitativa, e nel secondo caso abbiamo una carica all'esterno e poi sposteremo questa carica nei due casi per vedere cosa succede, perché succede una cosa molto interessante. Andiamo nel primo caso, così vediamo se avete capito tutto dal video precedente. Allora, ovviamente noi sappiamo che per il teorema di Gauss della carica deve posizionarsi sulla superficie interna della carica negativa, presente nel metallo, il metallo è un sorbatoio di elettroni, quindi... e vedete che questa carica non è esattamente nel centro? Quindi faccio una domanda per un pollo. Il campo elettrico, in questo caso, a distanza R, ha questa formula qua? La risposta è no, perché il sistema ha perso la simmetria sferica, anche perché, come capite, a distanza R dal centro questo punto è più vicino alla carica che questo. Quindi, il campo non ha più, ragazzi, se chiamiamo, se questo è il centro del conduttore, questa forma qua. ha una forma molto diversa perché è comunque vero che il flusso del campo elettrico attraverso una superficie che passa per il conduttore deve fare zero. Questo, però, significa soltanto che se c'è una carica più Q, sulla superficie interna deve posizionarsi una carica negativa meno Q e basta. non garantisce che il campo abbia la forma di una carica puntiforme. Però, comunque, quindi, la carica negativa deve mettersi sulla superficie. E in che modo, ragazzi? Beh, in un modo molto facile. Nel senso che, ovviamente, la presenza di un più in questa zona porta una maggiore presenza di meno, ovviamente, in questa zona. qua, meno, meno. Ad esempio, se la carica più Q vale più 10, più 10 carichi elementari, vuol dire che nel metallo 10 elettroni si spostano in questo modo. vedete, c'è una densità maggiore a nord, a nord-ovest, perché, appunto, la carica si è avvicinata. Ovviamente, se questa carica io la spostassi in questa direzione, qui, ad esempio, sempre dentro, gli elettroni si ammasserebbero vicino al più. Ok? Quindi, sì, sposterebbero ed arrivare a un nuovo equilibrio. Questo deve essere chiaro. Ma, succede una cosa molto strana all'esterno. Perché, ragazzi, all'esterno, un po' lo potrebbe pensare. Ah, ma allora, qui, anche all'esterno, visto che qui sono partiti 5 meno molto vicini, succede una roba del genere. Ragazzi, questa cosa è falsa. Nel senso che non c'è nessuna comunicazione tra l'interno e l'esterno. E questo perché il campo elettrico, che sarebbe colui, il messaggero, no, del devi spostarti, non devi spostarti, all'interno del metallo fa zero. E quindi non c'è comunicazione tra l'interno e l'esterno. Quindi sono partiti 10 elettroni verso l'interno, nessuno li ha più visti, nessuno li sente più. E quindi, cosa succede, ragazzi, all'esterno? Che all'esterno è comunque arrivata una carica, è comunque partita una carica meno Q, quindi visto che il conduttore è neutro, sull'esterno rimane una carica più Q. Però, visto che non c'è più comunicazione, all'esterno la carica si va a distribuire in modo simmetrico, con simmetria sferica, quindi in modo uniforme. ovviamente la carica totale fa più Q. Questo appunto perché non c'è comunicazione, legata al fatto che il campo elettrico, che appunto è il messaggero, sul metallo fa zero. E quindi cosa vuol dire? Che se io adesso vado a spostare questa carica qui dentro, i meno inseguono la carica verde, ma i più non si spostano di un centimetro. Questo perché i più esterni non sentono il campo elettrico fatto dai meno, semplicemente perché dentro il metallo il campo elettrico è nullo. Quindi i più non sentono nessun campo generato dalle cariche che sono dentro. E questo ovviamente cosa si sta dicendo? Che io sono riuscito a isolare, riesco in questo modo a isolare tutto ciò che succede dentro. Ma la stessa cosa ragazzi succede al contrario ed è questa la cosa importante. Cioè se io sono in questa posizione qua, cosa succede fisicamente? Per semplice attrazione i meno vanno a depositarsi qui cioè vanno ad avvicinarsi e uno potrebbe dire e quindi i più vanno a mettersi qua. Questo ragazzi è sbagliatissimo perché se succedesse una cosa del genere il teorema di Gauss non varrebbe perché la carica interna prendendo una superficie dentro un metallo deve fare zero e questo assolutamente non va bene. Quindi cos'è che succede con una configurazione del genere? Si va a creare una semplice redistribuzione di carica cioè questi troni hanno lasciato diciamo hanno subito la trazione grazie a questo più e quindi hanno lasciato nudi i sei più qui e all'interno non è successo assolutamente nulla e non succede nient'altro quindi non c'è carica all'interno e quindi tra l'altro questa cosa cosa significa? Che se io ad esempio metto poi vi linko dei video molto carini dei pezzettini dei fili metallici che possono alzarsi ma anche i capelli vanno bene in presenza di differenze di potenziale o di campo elettrico si alzano allora semplicemente spostando questa carica positiva in giro per il mondo cosa si osserverebbe? Ad esempio se la carica arriva fino a qua semplicemente gli elettroni inseguono la carica più nel senso che allora i meno vanno a mettersi qui e semplicemente i più vanno a mettersi dall'altra parte però dentro non cambia assolutamente niente come sono fatte però le linee di campo cosa ci sia una carica interna positiva allora le linee di campo all'interno beh sono quelle create da una carica puntiforme e quindi sono fatte così solo che poi all'esterno invece sono fatte così come se fossero generate da una carica posta nel centro ok e spostando la carica interna nel senso che se la carica fosse qui le linee sarebbero allora così di campo ma fuori vista l'incomunicabilità rimarrebbe tutto sempre uguale paradossalmente anche se la carica andasse a contatto con questi meno ok tra di loro si annullano ok quindi se la carica più andasse a contatto con i meno tra di loro si annullerebbero e quindi scomparirebbe tutta questa tutti questi più con questi meno però fuori rimarrebbe sempre questa situazione qua quindi ragazzi il fuori è incommunicabile con ciò che succede dentro ovviamente le linee di campo qui ragazzi si piegano perché devono arrivare perpendicolari sul conduttore devono tutte cadere sul se ci arrivano devono cadere perpendicolarmente sul conduttore poi qui ovviamente la direzione è questa anche perché qui ci saranno dei meno ok e dall'altra parte ci saranno dei più e quindi mentre qui ci sarà un campo che si muove in questa direzione qui ci sarà a questo punto invece un campo uscente fatto così quindi le linee poi hanno un profilo del genere quindi non è assolutamente niente di banale qui ovviamente vedete che non si vanno a toccare perché sarebbe il più col più e via e basta mentre all'interno non ci sarebbe campo né l'interno né dentro il metallo e dentro se io mettessi qualsiasi cosa ok andrebbe via il fatto che il campo sarebbe zero all'interno però qualsiasi cosa succede fuori è incommunicabile con ciò che succede dentro questo è un po' il riassunto di ciò che deve passare per questo video grazie a tutti